Si è concluso con il viaggio della memoria e la visita al campo di concentramento di Dachau in Germania, il progetto organizzato dal comune di Torre dei Passeri, i giovani ricordano la Shoah. Un viaggio interessante e di un'esperienza unica, quella vissuta dai ragazzi delle scuole, dell'istituto comprensivo e dell'istituto tecnico-economico che hanno ripercorso i luoghi delle barbarie nazifasciste in uno dei lager più sfruttati ed il primo in assoluto ad essere utilizzato nella Germania hitleriana. Un campo di concentramento dove vennero internati dai politici ai partigiani, agli ebrei, per un totale di 30.000 persone che non uscirono più da quell'inferno, a soli 16 chilometri dal centro di Monaco di Baviera. L'amministrazione comunale, che parte attiva del progetto con il sindaco Piero Di Giulio, ha voluto commentare così l'esperienza degli studenti. Il comune di Torre dei Passeri ha organizzato il viaggio della memoria. Siamo qui fuori il campo di concentramento di Dachau e le esperienze, nonostante le esperienze dei viaggi precedenti, l'emozione è sempre tanta. Quello che colpisce in particolare è il silenzio di questi luoghi e il fatto che questo silenzio coinvolga immediatamente i ragazzi che hanno avuto la possibilità di venire con noi a termine di questa iniziativa. Grazie a tutti.